Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Prosegue la cosiddetta ottobrata sull'Italia, caratterizzata da tempo stabile e clima particolarmente gradevole. Vediamo il dettaglio di mercoledì 5 ottobre. Sul Veneto tanto sole, insomma nulla di particolare da segnalare rispetto ai giorni scorsi. Il cielo sarà sereno, poco o parzialmente nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli, nelle ore più fredde. Temperature stazionarie minime tra 11 e 12 gradi, massime invece tra i 19 e i 24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo poco nuvoloso sui monti, più sereno su pianura e costa. Anche in questo caso possibili locali foschie notturne sulla bassa pianura. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui bel tempo soleggiato, con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22-23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.